Ciao ragazze, nuovo video outfit vi faccio vedere l'outfit di oggi che è giovedì è un outfit molto carino indosso una jumpsuit, una tuta che avevo preso da da Zara con i saldi invernali ma è molto estiva in realtà e oggi ho deciso di indossarla e volevo darvi una notifica super bella c'è questa tuta a cui non avevo mai pensato in realtà, ok adesso dovrebbe essere così, questa tuta è molto scollata siccome io la volevo mettere ad andare al lavoro ho detto la metto, non sapevo che era così scollata l'ho provata, ho detto caspita è scollatissima allora, siccome ero di fretta e furia ho messo sopra la giacchettina questa qua in lino che poi vi faccio vedere perché stamattina faceva freschino e adesso è uscito un caldo e ho detto cosa posso fare per prenderla meno scollata volevo tirarla su fare questo, fare quello, alla fine ho scocitato questa cosa, spero che sia dritta comunque ho preso una spilla ho messo insieme i due spallini e ho fatto questo intreccio che secondo me è venuto molto bene non so se a voi piace l'idea però praticamente sopra ho guadagnato posto, nel senso che ho tirato su questi se no sarebbe giusto, si vedeva proprio la bralette diciamo però non posso andare al lavoro con reggissione in vista in ufficio e quindi sono molto contenta di questo brevetto sopra il tutto ho messo questa giacchina qua che ho preso al mercato di Brescia in un banchetto italiano, l'ho pagata solo 6 euro molto carina in lino, bianca e verde la tuta è abbastanza sportiva ve la faccio vedere verde salvia verde salvia, si non verde militare ma più sul salvia con questo elastichino qui in vita c'è proprio l'elastico, vedete è un po' stile sportivo fatta canotta con gli spallini bianchi e ho deciso di abbinarla a questi sandali meravigliosi che è la prima volta che li metto ma ce li ho da una vita sono di prima donna poi ve li faccio vedere bene sono bianchi con le catene dorate e sono spettacolari secondo me me li aveva regalati Simone per un compleanno di un po' di anni fa ma non li ho mai usati ho aggiunto l'ispirazione sopra la giacchina ve la faccio vedere come sta indossata ok metta così per l'ufficio faccio proprio il freschino stamattina e la borsa invece è la solita mia bag che vedete in questi giorni sapete che io con le borse sono molto pigra questo è quanto e niente l'outfit completo ecco le scarpe ragazze più precisamente nel dettaglio sandali bianchi immacolati con tutti questi queste cerniere dorate e questi laccetti e se vi chiedete se sono grandi no sono giusta solo la posizione del piede che era strana guardate che meraviglia bellissimi sono anche più o meno comodi questa la tuta il tessuto è molto strano vedete elasticizzato bello mi piace anche il fatto che sia abbastanza corta come accessori praticamente ho messo questi orecchini qui argentati questo cioccher nero questo cioccher brillantinato e basta e poi vabbè ogni tanto si intravede il reggiseno ma comunque con la giacchetta è tutto a posto ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto aspetto di leggere come al solito i vostri commenti e il vostro voto all'outfit e noi ci vediamo nel prossimo video ciao